Il mondo delle minacce informatiche è in costante evoluzione. Ci sono dei trend e delle minacce che richiedono particolare intenzione degli interventi mirati. Per questo motivo dobbiamo fronteggiare tanti fronti diversi e dobbiamo cercare di identificare o capire come fronteggiare minacce anche complesse come gli attacchi a un super mirati piuttosto che gli attacchi alla supply chain o attacchi come le minacce APT, cioè le minacce avanzate e persistenti. È importante essere preparati, avere una difesa multilivello e soprattutto avere delle strategie che ci permettano in primis di avere visibilità su quello che accade all'interno delle infrastrutture, poi utilizzare, applicare delle politiche che permettano di informare gli utenti su quelle che sono le problematiche di sicurezza informatica, ma soprattutto bisogna essere pronti a reagire agli incidenti quando questi accadono. Grazie. Grazie. Grazie.